Eccoci oggi in diretta, vi presento la nuovissima crema arrivata, la nuovissima crema viso della linea Unicellulari di Netours. È una delle linee più amate, più apprezzate proprio come linee per il viso. Vi piace tantissimo, insieme alla linea Bava di Lumaca, questa completamente vegetale e vegana, quindi tutta base di frutta, è nata la nuovissima crema viso anti-pollution, quindi la crema viso anti-rug che vi piace tantissimo, è la più venduta di tutta la linea perché è fresca, perché è leggera, si assorbe bene, contiene anche una parte di filtro solare che è perfetto per questa stagione, si è evoluta, quindi è nata la nuova crema anti-pollution. Cosa vuol dire in italiano? Anti-inquinamento, quindi aiuta praticamente stesa sul viso la mattina ad evitare che all'interno dei pori e sulla nostra pelle si depositano le polveri sottili, tutta quella parte di inquinamento che comunque attraversa la nostra pelle fa quell'effetto pelle spenta, pelle opaca, soprattutto quando c'è il cambio di stagione, adesso che è in primavera, il momento ideale per andare a cambiare proprio il tipo di pelle perché si passa dall'inverno in cui andiamo a utilizzare una crema più corposa, più ricca, che ci protegge, adesso è il momento proprio di abbandonare le creme più nutrienti, più ricche, magari tenerle più per la notte e andare a utilizzare per il giorno una crema per il viso più leggera, più fresca, che possa andare bene anche da mettere sotto base per il trucco, ma che contenga un po' di protezione per il sole, soprattutto se vi piace stare all'aria aperta. Quindi chi comincia ad andare in giro, a passeggiare, a camminare, programmate le giornate all'aperto, perfetto andare ad utilizzare una crema per il viso con un pochino di protezione per il sole. Quindi oggi vi faccio una carrellata di tutto quello che è la linea Netours che vi piace tantissimo come crema per il viso e vi ricordo che da oggi parte la promo sulle creme viso Netours, quindi scegliendo una di queste creme che oggi vi faccio vedere, avete subito in regalo un prodotto per la pulizia, latte, detergente, viso e occhi. Questo è comodissimo perché si può utilizzare, come un sapone, quindi massaggiato sul viso e sciacquato via. Oppure per chi preferisce sul batuffrino di cotone, si può utilizzare sia per struccare gli occhi, non brucia, quindi sia per togliere il make up o anche semplicemente proprio come detergente per andare a fare una bella pulizia proprio della pelle e andare a portare via le polveri sottili, insomma tutte le tossine che a livello esterno la nostra pelle tende a far depositare in superficie. E non è semplicemente e solamente per chi sta all'aria aperta, vive nel traffico, io mi ricordo quando andavo a Milano a studiare tornavo che avevo proprio la pelle, i capelli che avevano assorbito l'odore dello smog. Ma in realtà recenti studi, soprattutto per chi sta chiuso in ufficio, per chi vive in quei posti dove magari sta spesso appunto negli uffici dove ci sono quei ricircoli di aria, piuttosto che quei centri commerciali dove purtroppo ci sono poche finestre, ecco anche in quel caso si crea una situazione in cui le polveri sottili, in cui gli inquinanti ambientali aumentano e li respiriamo, quindi andiamo ogni tanto un bel depurativo anche a livello bevuto, va benissimo, ma anche la nostra pelle li assorbe, quindi si vanno a depositare sulla pelle e quindi serve un bel trattamento di pulizia, quindi la sera prima della crema serale, il latte detergente, perfetto, quindi una bella detergenza, ci sciacqua poi con l'acqua o con il tonico e poi andiamo ad applicare la nostra crema. Se vi piacciono le creme proprio appunto più nutrienti la sera, vanno benissimo, se no per chi invece preferisce una crema che possa andare bene giorno e notte, che possa utilizzare distintamente la mattina e anche la sera, allora si può scegliere tranquillamente le creme della linea NETWORKS. Vi mostro quella che vi piace appunto tantissimo, hanno mantenuto proprio la stessa grafica, lo stesso colore perché la base è arancia rossa, è sempre una crema anti rughe, sempre anti age, anti tempo, con un fattore di protezione 15, quindi va bene anche per chi comincia a passare le giornate all'aperto per fare una passeggiata, aiuta a proteggere il sole, la pelle dai raggi solari e la nuovissima anti pollution aiuta a evitare proprio anche che la nostra pelle vada ad assorbire tutte quelle polveri sottili, piuttosto che quegli inquinanti che troviamo dispersi nell'aria. Oltre alle due creme versione anti age, ci sono anche tre altre creme che partecipano sempre all'offerta, quindi anche scegliendo queste altre tre avete sempre il regalo, il latte detergente, ce n'è una più specifica per le pelli sensibili, delicate e arrossate, vediamo se si vede bene, anche questa contiene un fattore di protezione, una protezione 20 e poi ha un estratto di mandarino e liquirizia che ha un effetto calmante proprio su quelle pelli che si arrossano, ipersensibili, iperreattive, che qualsiasi cosa andiamo a stendere, si infiammano, il primo sole le fa arrossare, il caldo e il freddo, quindi gli sbalzi di temperatura, subito mi viene in mente tipo la pelle di Peter che faceva venire i pomelli rossi quando si esce al freddo, quindi quelle pelli iper sensibili, iper delicate, questa perfetta, pelli sensibili e anche con questa abbiamo subito il regalo, il latte detergente, che va benissimo perché non è schiumogeno, non è aggressivo, questo va bene proprio per tutti, anche per struccare gli occhi invece altra alternativa per chi ha la pelle un po' più, perdono, le avevo preparate ma questa me la sono dimenticata, crema effetto opacizzante, effetto matt, per chi ha la pelle un pochino più grassa, in questo caso anche qui abbiamo sempre il fattore di protezione, visto che andiamo incontro alla bella stagione questa è indicata più per chi ha la pelle che tende ad essere lucida, che tende a, quando si mettono le creme a dare quell'effetto quasi che fa fatica un po' ad assorbire, è una crema gel, nel senso che è più leggera come consistenza, non è la classica crema pastosa bianca, ma è molto fresca, molto leggera, perfetta come base per il trucco anche stesa per chi appunto ha la pelle un pochino più grassa, basta un filo di questa crema una spolverata di terra o di cipria e sia perfetti e la pelle con questa crema non dà quell'effetto lucido proprio tipo zona T, quindi anche durante l'arco della giornata vedete proprio la pelle che mantiene la pelle comunque l'idratazione, viene protetta dal sole ma non butta fuori quell'effetto lucido che invece è tipico delle pelli un pochino più misse e un po' più grasse. Ultima di tutta la serie la crema idratante, questa è l'unica crema che non ha il fattore di protezione, quindi questa è per chi invece ama magari mantenere le due creme separate giorno e notte, questa va benissimo di sera tanto il fattore di protezione non ci serve, oppure per chi vuole utilizzarla come base e poi stenderci sopra una protezione 50 piuttosto che un fondotinta che abbia già la protezione o le BB cream che comunque sono già colorate con una parte di protezione solare, anche quelle va benissimo da mettere proprio come base. Con tutte le creme che vi ho mostrato oggi, quindi potete scegliere c'è una crema per ogni tipo di pelle, missa, grassa, delicata, piuttosto che le amatissime anti rughe, versione classica e versione nuovissima anti pollution, danno in regalo tutte il latte detergente struccante viso e occhi. Questo appunto non fa schiuma, lo utilizzate per detergere il viso la sera e poi stendete la crema e vedrete che nell'arco di pochi giorni la pelle comunque compare subito, appare subito più luminosa se aggiungete proprio il passaggio di pulizia. Poi l'ottimo sarebbe una volta alla settimana a darci, dedicarci del tempo per farci una bella maschera in modo che andiamo a reidratare o comunque una volta alla settimana tenere anche uno scrub in modo che anche lo scrub abbia quell'effetto proprio esfoliante che aiuta a eliminare le cellule morte e a detergere a fondo la pelle, perché come appunto abbiamo visto oggi, l'inquinamento si deposita sulla nostra pelle, quindi oltre alla pulizia, una volta che abbiamo pulito bene la pelle, andare ad utilizzare una crema che aiuti proprio a proteggere da l'assorbimento di tossine a livello proprio della pelle, quindi la nuova crema anti pollution fa proprio questo, quindi vi aspettiamo questa settimana con la promozione e se volete altre informazioni o se volete farmi domande, aspettate che è arrivata una notifica, scrivetemi su whatsapp il numero è sempre il solito 388 88 45 700, scrivete qualsiasi domanda oppure se volete prenotare la vostra crema preferita, con ogni crema avete in omaggio un latte detergente struccante viso e occhi, quindi scriveteci su whatsapp e per qualsiasi cosa, intanto ci vediamo sempre nelle stories, vi parlerò di tutta questa linea nello specifico, quindi seguiteci e ci vediamo in settimana con altre dirette, buona giornata, a presto, ciao!